Non ce l'ha fatta il bimbo di cinque mesi colpito da un virus sincenziale. Il suo cuoricino ha cessato di battere nel reparto di pediatria dell'ospedale San Leonardo di Castellamare di Stabia, dove era ricoverato e si apprestava a raggiungere il Santo Bono di Napoli. Non c'è stato tempo, il piccolo paziente era giunto il 6 novembre scorso con una grave dispnea e gravi problemi respiratori, spiegano dalla direzione sanitaria. La malattia ha avuto un'evoluzione rapida e negativa. Si tratta di una malattia respiratoria che colpisce i bambini in tenera età e che in sole 48 ore è risultata in questo caso fatale. Non c'è sicuramente una maggiore aggressività. La clinica è esattamente la stessa rispetto agli anni precedenti. C'è probabilmente una minore difesa, sono delle difese ridotte da parte dei lattantini o anche dei neonati, proprio perché lo scorso anno il virus non è circolato. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta. La cartella clinica, sequestrata e disposta all'autopsia. Si tratta in pratica di un agente virale ubiquitario, assai contagioso, spiega l'esperto, ma non deve allarmare se si tengono conto le regole di base da rispettare. Va messa in atto oggi ancora di più rispetto a ieri la profilassi ambientale. Che significa? Significa che dobbiamo mettere in atto tutte le misure di prevenzione che alla fine consistono semplicemente nel continuo lavaggio delle mani e nell'evitare i contatti diretti con i neonatini e con i lattanti.